Matteo Battocchio, ieri sera hai detto che i tuoi ragazzi si sarebbero dovuti divertire, stasera lo hanno fatto e è venuta fuori una bella Italia. Sì, confermo, è venuta fuori una bella Italia, ma soprattutto si sono divertiti. Se ci pensi non è stata così diversa dalla gara di ieri. Primo set un po' più tirato, secondo mi ha fatto bene, nel terzo, se ti ricordi, intorno al 10, c'è stato un attimino di, ma ne siamo usciti bene. Per carità, il livello dell'avversario, insomma, la Francia è una delle squadre, secondo me, candidate a medaglia, quindi sapevamo, di fronte avevamo uno squadrone, però l'importante è aver fatto uno step in più rispetto a ieri, aver fatto sintesi e aver fatto qualcosa di diverso rispetto a ieri, soprattutto, come detto, esserci divertiti in campo. Domani giornata di riposo e poi ci sarà la Serbia. Sì, domani giornata di riposo, ne approfitteremo per mettere a posto alcune cose, e vedere insieme alcune cose che possiamo ancora migliorare. Poi ci aspetta la Serbia, poi dopo la Polonia, l'obiettivo è continuare a crescere. Ieri abbiamo giocato meglio della prima partita, anche se abbiamo perso, oggi abbiamo giocato ancora meglio su certi aspetti e l'obiettivo è continuare a crescere di gara in gara. Perfetto. Grazie. Grazie.